Oh, ma è ridicolo. E come intende proibirtelo? Minacciando la più severa delle punizioni. Rimandarmi nel Connecticut. E ricoprirti di pece e piume. Sostiene di avere degli affari importanti a Hartford. E minaccia di trasferirci lì se non troncheremo i nostri rapporti. E per quale plausibile ragione o pretesto? La sua ex pupilla Lucy Manering gli ha scritto. Davvero? Che donna orribile. Lo so. Una pazza. Se è così gelosa non avrebbe dovuto sposare un uomo tanto affascinante. Ricordo di aver pensato mentre mi dirigevo a Lanford. Quest'uomo mi piace. Voglia il cielo che non ne venga alcun danno. Ero decisa a essere discreta e lo sono stata. Ho accettato solo le attenzioni di Manering. E ho evitato di corteggiare chiunque altro. Salvo qualche attenzione dedicata a Sir James Martin. Ma se se ne sapesse la ragione mi si renderebbe onore. Martin? Sir James Martin. Di Martindale. Enormemente ricco e sempliciotto. Ideale. Miss Maria Manering l'ha puntato considerando un tale patrimonio eccessivo per non essere condiviso. Ma con le mie attenzioni l'ho distolto e l'ho fatto innamorare di Frederica. Se mia figlia non fosse la più grande babea della terra... Sarebbero già fidanzati. Ah sì? L'ha respinto. Un baronetto con diecimila all'anno di rendita. Davvero seccante. E dove intendi andare? Se ci fosse una qualsiasi alternativa ci andrei strisciando carponi. Il peggior posto da questa parte dell'oceano. Un paesino di campagna. Churchill. La residenza di mio cognato. Mrs. Cross, una gentildonna in ristrettezze, verrà con me per farmi da accompagnatrice. Mi aiuta a fare e disfare i bagagli e cose simili. E poiché c'è dell'amicizia fra noi e un compenso sarebbe offensivo per entrambe.